Nell'ultimo decennio abbiamo visto il Manchester City crescere da modesta squadra di metà classifica del campionato inglese fino a diventare una potenza mondiale. Come ogni ascesa, però, anche quella del Manchester City non è stata esente da qualche errore di percorso. Nei prossimi minuti parleremo dei dieci peggiori flop passati dal Manchester City negli ultimi dieci anni. Non potremo quindi rivangare dalla memoria i due mesi passati a Manchester da George Weah e nemmeno l'esperienza di Robinho. Ma ora basta con Venevoli e passiamo ai nostri dieci nomi. E partiamo da Javi García, uno di quei giocatori per cui rimarrà sempre nell'aria la domanda «Fu vero flop?». A giustificare la sua presenza nella nostra lista sono i 20 milioni pagati nel 2012 al Benfica per assicurarsi il mediano, che peraltro esordisce nel migliore dei modi, segnando di testa al debutto su una punizione battuta da Carlito Stere. Peccato che il centrocampista si riveli un po' lento e poco preciso nei passaggi. Ma va detto che ci sono due argomenti abbastanza forti per dire che non sia stato poi un flop. La sua capacità di soffocare gli attacchi avversari e il fatto che comunque era una presenza piuttosto fissa nella squadra che vinse lo Scudetto del 2014. Ci si aspettava molto anche dall'acquisto di Nolito nel 2016. 18 milioni spesi per l'ala sinistra spagnola prelevata da Celta Vigo. È un contratto quadriennale. Lo spagnolo però resterà a Manchester solo un anno prima di fare il ritorno in patria a Valencia. Difficile l'ambientamento nell'Inghilterra del Nord. Imparò solo una manciata di parole d'inglese e arrivò a lamentarsi che la figlia era diventata troppo pallida stanno a Manchester. Disse che sembrava quasi che avesse vissuto in una caverna. E dire che aveva iniziato anche molto bene segnando tre gol già ad agosto. Ne segnerà solo altri tre in tutto il resto della stagione. E la sua presenza in campo si farà sempre più discontinua. A volte la storia si ripete. Prendiamo il caso di Scott Sinclair che approdò al Chelsea nel 2005 ma non riuscì mai in cinque anni a entrare in prima squadra e dovete passare per ben sei prestiti diversi prima che i londinesi lo cedessero a titolo definitivo allo Swansea. Nella squadra gallese riuscì a brillare trascinandola alla promozione in massima divisione e giocando una buona prima stagione in Premier League. Abbastanza per convincere Manchester City a spendere quasi 8 milioni su di lui nel 2012. Peccato che dopo le sue prime due presenze il suo tempo in campo sarà estremamente limitato. Scenderà in campo solo altre nove volte e solo due di queste per più di dieci minuti. La storia già vista a Chelsea insomma sembra destinata a ripetersi. Passa in prestito al West Bromwich Albion poi torna per mezza stagione in cui mette insieme tre minuti in due presenze. Infine a gennaio viene girato in prestito all'Aston Villa che poi a giugno renderà il trasferimento definitivo. Alla nostra numero 8 un giocatore che forse qualcuno di voi ricorderà per averlo visto nella docuserie Sunderland Till I Die. Prima di arrivare al Sunderland e sprofondare in seconda divisione Jack Rodwell era un giocatore del Manchester City. Talento molto promettente dell'Everton venne prelevato dai Citizens per 20 milioni nel 2012. A fermare il giocatore sono però principalmente i guai fisici. Sembra costantemente infortunato al tendine della coscia e fatica a trovare uno stato di forma decente. Solo 16 presenze in Premier League in due stagioni prima di essere girato appunto al Sunderland. Il prossimo nome della nostra classifica perlomeno è riuscito a salvare la propria carriera dopo aver floppato a Manchester. Stiamo parlando del difensore montenegrino dell'Atletico Madrid Stefan Savic che resterà nella storia della squadra soprattutto per il rigore causato nella semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool che si rivelerà poi decisivo per l'eliminazione dei Citizens. Il City lo scova al Partizan Belgrado e lo porta a casa per 12 milioni. Probabilmente il problema è semplicemente che è ancora acerbo visto che ha solo 20 anni. Sente la pressione, sbaglia troppi passaggi regalando anche diverse palle gol agli avversari. E mette insieme solo una dozzina di presenze in Premier League prima di essere scambiato con la Fiorentina per arrivare a Matija Nastasic. Il nostro prossimo nome ha tantissime cose in comune con Stefan Savic. Entrambi montenegrini, entrambi lanciati dal Partizan Belgrado, entrambi hanno lasciato la Serbia per giocare a Fiorentina e Manchester City. Avrete capito che stiamo parlando di Stefan Jovetic, che però fa il percorso inverso rispetto a Savic. Dopo tre ottime stagioni alla Fiorentina si guadagna la chiamata dei Citizens per ben 30 milioni di euro. Troppi gli infortuni però, che limiteranno le sue presenze in Premier League a 30 nel corso di due stagioni. E sono solo 8 i gol segnati prima di essere ceduto all'Inter. E sì, lo sappiamo, un giocatore che è già passato per le nostre flop 10, visto che anche il nerazzurro non convince affatto. Alla nostra numero 4 troviamo l'ivoriano Wilfred Boni. La sua carriera, fino a quando mette piede a Manchester, è in ascesa vertiginosa. Sparta-Praga, Vitesse, Swansea. E nella finestra di mercato del gennaio 2015 arriva l'offerta del Manchester City per 32 milioni di euro. Dopotutto, in quell'anno di calendario era stato il marcatore più prolifico della Premier League. Peccato che, appena acquistato, Boni sia subito indisponibile. È in Guinée Equatoriale a disputare la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Segna una doppietta ai quarti di finale e solleva il trofeo di campione continentale. Ma si sa, quando un giocatore torna dalla Coppa d'Africa, spesso il suo stato di forma non è affatto eccezionale. Segna solo due gol in dieci presenze, senza mai rimanere in campo per una partita intera. Appuntamento rimandato alla prossima stagione, si pensa. Ma in estate il giocatore contrae la malaria e salta parte della prestagione. E poi, tra infortuni e prestazioni poco convincenti, fatica a trovare stabilità nella squadra. A fine stagione il City lo presta allo Stock City, per poi restituirlo allo Swansea per 13 milioni. Ed eccoci arrivati al podio, che inizia con un nome pesante. Quello di Jérôme Boateng, che il Manchester City acquista dall'Hamburgo per 12 milioni e mezzo di euro nel 2010. A volerlo è Roberto Mancini, ma l'unico problema è che il giocatore si fa male in maniera molto particolare. Sta tornando in aereo da un amichevole internazionale, ma una hostess lo colpisce con il carrello delle bevande al ginocchio dove si era già fatto male durante la partita. Il risponso? Infortunio a legamento e un mese e mezzo di stop ai box. Non troverà mai tantissimo spazio e un nuovo infortunio a fine stagione metterà fine alla sua esperienza al City. Viene ceduto al Bayern Monaco per 13 milioni e tutti sappiamo com'è andata poi la sua carriera. Insomma, forse sarebbe bastata solo un po' più di pazienza. Alla numero 2 un altro nome pesantissimo, quello di Maicon. Due anni dopo aver vinto il triplete, il terzino brasiliano approda il City per 7 milioni e mezzo di euro. Ormai però è nella fase discendente della sua carriera. Ha 31 anni ormai e inizia a infortunarsi un po' troppo spesso. Inoltre non riesce a scalzare Pablo Sabaleta dalla posizione di terzino destro titolare. E, quando l'argentino non è disponibile, viene più spesso spostato sulla fascia destra Maica Rachel. A fine stagione verrà scaricato alla Roma, dove riuscirà, almeno per un po', a risollevarsi. Ed eccoci alla numero 1 della nostra classifica, che si prende il primo posto di diritto per la cifra sborsata dal Manchester City per il giocatore. 45 milioni di euro, che nel 2014 erano una bella cifretta, soprattutto per un difensore centrale. Eliakim Mangalà viene prelevato dal porto e firma un contratto quinquennale. Il suo esordio è ottimo, tanto che la BBC definisce la sua prestazione colossale. Ma dall'in poi Mangalà delude tantissimo. L'allenatore Pellegrini proverà a difenderlo, sostenendo che si tratti di un grande giocatore che ha incappato in un periodo sfortunato. Un periodo che però dura un po' troppo. Dopo due stagioni viene scaricato in prestito per la prima volta al Valencia. Torna per mezza stagione, poi un altro prestito, stavolta all'Everton. Nella scorsa stagione era ancora a libro paga del Manchester City, che però gli trovò spazio solo nella formazione Under-23. Prima che il suo contratto scadesse e che ottenesse un ingaggio da parte del Valencia. Dove però è ancora ai margini della squadra, visto che da inizio stagione ha ottenuto solo 4 presenze in campo e altrettante panchine. Questi erano per noi i 10 peggiori acquisti negli ultimi 10 anni del Manchester City. Fateci sapere nei commenti se pensate che ci siamo dimenticati qualcuno di importante. E non dimenticatevi di mettere like al video e iscrivervi al nostro canale se già non l'avete fatto. Siete su OneFoolball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.